Comincia Bruno, andiamo? Signore, signore, buongiorno, benvenuti a... dove giocano? A Pasadina. Ah, quella di Pasadina. Stade Rosboglu. No, pensavo facessi quella di Tremizio di Sardinio. Allora, la stade... No, no, va bene Pasadina. Signore, signore, buongiorno, siete collegati? Siete collegati con il Rosboglu di Pasadina, dove sta per andare in OM la partita più attesa del secolo, come qualcuno l'ha definita Italia-Brasile, finalissima del mondiale. Di fatto, una miriade di elicotteri punteggia il cielo e piccoli aerei trascinano striscioni. Qui, sull'omale, l'omale del Rosboglu presenta un magnifico colpo d'occhio. La temperatura naturalmente presenta gradi molto elevati, però il tasso di umidità è piuttosto relativo, per cui possiamo dire che le condizioni ambientali sono più che accettabili. Le formazioni, il Brasile di Cabo Sanberto Parreira schiererà... Taffarello? Le schiererà... Taffarello in porta. Zorzidio, Marzio Santos, Aldair e Bracco in difesa. A centrocampo Zidio, Mauro Silva, Dunga e Massigno a centrocampo Romario e Bebetto di punta. Nell'Italia, come sentiremo, gioca Roberto Baggio. Fino all'ultimo momento la sua presenza è stata in forza. Però Sacchi ha deciso di schierarlo anche perché, bisogna ammettere, che fin qui ci ha portato proprio lui, Roberto Baggio. Entanto, ed ecco il quadrato, il nostro commissario tecnico, Arigo Sacchi, che ci ha contattaci qui alla finale, regalandoci il momento di spasmodica attesa e di grande fermore. Schiererà, Pagliuca in porta, Mussi a destra, Benarrivo a sinistra, Maldini e Vientrante. Baresi, Franco, che è stato operato al menisco poco prima della conclusione della prima partita di questa mondiale. Naturalmente, vederlo in campo è una specie di miracolo. Nessuno se l'aspettava, è stato recuperato. A centrocampo Berti, Dino Baggio, Albertini e Donatori. Le punte sono Roberto Baggio e Massaro. Massaro, resta fuori dal giro in maniera abbastanza incomprensibile un altro giocatore che aveva fin qui fatto abbastanza bene. Si tratta di... Chi era? Casiraghi? No, no, Casiraghi. Bravo, vedi che non hai studiato. Non ho studiato. Caterino Gallo. Caterino Gallo. Viva! 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 Grazie Mkhaz就會 ho rimanato. Grazie mille! Que', che possibile! Viva Sabri! Viva! Che essere conosc奶 che gli aveva spiegato e l'ha lasciata qui! Lei è come le e non indip conspirazioni? Grazie a tutti.